Ciao a tutti, oggi parleremo insieme dell'olio essenziale di salvia sclerea, della linea nasoterapia, che può essere utilizzato sia per uso interno che cosmetico. L'olio essenziale di salvia ha un'azione rilassante per tutti quei sintomi di origine psicosomatica, dunque ansia, depressione, convalescenza, astenia, debolezza negli anziani, ma anche come afrodisiaco. Può essere utilizzato per andare ad alleviare tutti i sintomi causati dalla menopausa, ma anche per andare a regolarizzare il flusso mestruale. Ottimo anche come digestivo, per andare a eliminare le tossine, come drenante a livello renale. Ad uso cosmetico può essere aggiunto come tonico cutaneo e come antirughe nella normale crema viso. Può essere aggiunto anche nello shampoo, nel bagno schiuma, come antiforfora, ma anche per andare a regolarizzare un eccesso di sebo, dunque non solo a livello del cuoio capelluto, ma anche a livello di pelle del viso e del corpo. In caso di malumore e alterazione del tono dell'umore, può essere aggiunto al diffusore ad ultrasuoni, dunque un diffusore di oli essenziali, tre gocce di salvia, tre gocce di rosmarino e tre gocce di caiebutte.